A Barcellona, a partire da questo venerdì, sarà possibile accedere a bar e ristoranti, palestre e altri spazi aperti al pubblico senza più dover esibire un pass sanitario. Come accade in altri paesi, anche in Spagna le autorità cambiano approccio nella gestione della pandemia da coronavirus. E la novità alimenta le discussioni. Mi sento sollevato, mi solleva vedere che le restrizioni dei mesi passati vengono un po' alla volta cancellate. Questo cambio improvviso un poco preoccupa, era rassicurante per noi andare in un ristorante sapendo che ciascuno aveva il proprio pass sanitario e seguiva tutte le linee guida. In Danimarca, nonostante l'annuncio del governo di una quasi totale rimozione delle restrizioni a partire dal primo febbraio, diverse aziende hanno preferito mantenere le misure preventive sui luoghi di lavoro. Il timore principale è quello di non riuscire a gestire eventuali focolai di infezione che creerebbero problemi alla produzione. In Germania, dove i casi di contagio risultano in aumento, cambia la prospettiva. Da emergenza transitoria il Covid si trasforma in una presenza endemica con cui fare i conti e convivere. Secondo il ministro tedesco della Salute, il picco dei contagi è atteso per la metà di febbraio. Penso che al momento l'ondata Omicron in Germania sia sotto controllo, ha detto. In Russia, la preoccupazione principale riguarda il numero delle vittime, che ha superato quota 700.000, secondo una stima. Solo nel mese di dicembre scorso si sono contati quasi 55.000 decessi, dati che fanno della Russia il secondo paese per numero di morti da Covid dopo gli Stati Uniti. Grazie. Grazie.